Bene, Men's Fit 2020, questo è il canale 2, io sono Gianmari Migliaccio, ciao a tutti, sono il direttore scientifico di questo mega evento, il più grande d'Italia, 170 relatori, tre giornate di live dalle 8 del mattino alle 20 della sera, venerdì, sabato e domenica, una cosa che ha dato il via al canale di divulgazione scientifica, si chiama proprio Men's Fit, ripeto sempre, Men's è latino, non è inglese, quindi mente, e invece Fit è latino, in forma, è scuola regionale dello sport che ha creduto nell'idea e ha detto ci vorremmo essere, anzi ce lo prendiamo in casa e lo facciamo noi. Allora, Men's Fit 2020, adesso ci colleghiamo direttamente con Napoli, città bellissima dove ci sono fior di professionisti, soprattutto delle aree delle scienze motorie, un altro membro della Sports Science Academy che è tra i promotori del progetto ed è esposito Alessandro che insomma ci conosciamo da qualche anno, l'ho sempre ritenuto un professionista professionale, mi aveva detto guarda Gianmari non ce la faccio perché credi mi ha mandato audio ai quali sai bene che non ti ho risposto perché la faccio così, cioè come dire io ho i più bravi, uno la nostra squadra dell'Academy sono tutti ovviamente pronti a competere e io non lo accetto che una persona in gamba preparata prima di partecipare si escluda, a casa mia non funziona, infatti come sai ho detto noi ci siamo, ti abbiamo fatto la sede a Napoli cosa ne avevi proprio più scuse per dire no ma sai perché qua il nostro governatore ci porta lancia fiamme se usciamo di casa tranquillo andiamo noi a Napoli così ti avevano tolto tutte le scuse sono venuto per un saluto infatti beh però un saluto non da poco perché adesso in pochi minuti ci dirai questa cosa che poi alla fine è come dire anche una delle cose più cliccate tipo come dimagrire la frequenza cardiaca per dimagrire a che intensità farlo ecco allora tu adesso ci dirai veramente un po' di pillole di queste cose che esperienza e evidenza ci porteremo a casa qualcosa di sicuro Alessandro Esposito allora io vengo qui e ringrazio Gianmario per dare delle piccole pillole su delle domande che vengono poste sempre a noi tecnici una delle domande più frequenti ad esempio è sull'acqua corporea siccome lavoro sull'acqua da tanto tempo perché lavoro con la bioimpetenziometria da 18 anni quindi ho un'esperienza accumulata da tanto tempo la domanda classica viene fatta sempre ma per essere idratati nella giusta misura quanta acqua devo bere durante la giornata ecco c'è chi dice che non è sufficiente non è necessario bere tanta acqua ma è importante mangiare la giusta quantità di frutta e verdura altri dicono che bisogna bere durante l'arco della giornata un litro un litro e mezzo e altri addirittura 3 4 5 litri quindi chi di questi ha ragione partiamo con il fatto con partiamo nel dire che la giusta idratazione è alla base della giovinezza e del benessere basti pensare che nasciamo con un quantitativo d'acqua enorme intorno all 80 85 per cento e piano piano che invecchiamo l'acqua diminuisce sempre di più fino ad arrivare in vecchiaia intorno al 45 per cento quindi quasi la metà in più bisogna dire che le persone obese rispetto alle persone muscolose e magre hanno un quantitativo di acqua nettamente differente anche perché la cellula adiposa l'adiplocita è quasi priva di acqua mentre la cellula muscolare il miocita ne è ricca quindi la domanda da porsi in realtà è sbagliata perché non bisogna dire quanta acqua devo bere ma sono idratato nella giusta misura in questo momento ecco due test molto rapidi uno è di tipo strumentale e l'altro è a costo zero per capire quanta acqua noi abbiamo il test strumentale è appunto la bioimpetenziometria che va a calcolare l'acqua totale in realtà va a fare anche una bella fotografia sulla membrana cellulare perché va a differenziare l'acqua extracellulare dall'acqua intracellulare mentre il test a costo zero è andare a controllare il colore della propria urina se giallo paierino trasparente significa che noi stiamo introducendo la giusta quantità di liquidi mentre se giallo è sempre giallo più scuro vuol dire che in quel momento noi siamo disidratati e quindi il messaggio rapido da portare a casa è andare a controllare perfettamente questa situazione perché su solo con una giusta idratazione avremo un benessere metabolico e ormonale mentre un'altra domanda che viene fatta sempre è sulla in realtà non è una domanda è una una costatazione è un'affermazione che molte ragazze quando iniziano nel primo fit check ad esempio iniziano l'allenamento vogliono assolutamente dicono non mi far utilizzare i pesi perché non voglio eh ingrandire le gambe beh partiamo con il partiamo subito con nel dire che il che l'ipertrofia nelle donne è molto difficile perché manca proprio il corredo ormonale necessario affinché l'ipertrofia possa avvenire infatti i i gli ormoni anabolici nelle donne sono anche 20 30 volte in meno rispetto a quello degli uomini e noi sappiamo che il 90 per cento dei cambiamenti quando ci alleniamo è proprio a carico dell'acqua infatti può succedere che le donne si avvicinano all'allenamento e vedono nel primo periodo un peggioramento delle proprie gambe e noi se li andiamo proprio a misurare hanno qualche centimetro in più eh questo però sicuramente non deriva da un eh ingrossamento della massa muscolare ma in quel momento l'acqua extracellulare sta prendendo un sopravvento rispetto all'acqua intracellulare e i motivi sono tanti uno dei motivi quello più comune è che iniziano l'allenamento con una frequenza con un con un intensità o con un volume troppo elevato questo va a creare una infiammazione molto forte che crea un insulino resistente un insulino resistenza che va a provocare una incapacità da parte delle miocita di gestire il glucosio che richiama acqua in abbondanza che in effetti fa crescere la circonferenza delle gambe e molte volte le ragazze per velocizzare il dimagrimento cosa fanno? Iniziano a mangiare molto poco quindi una dieta ipocalorica e molte volte una dieta ipoglucidica insieme a una frequenza molto grande e iniziano ad andare in palestra anche tutti i giorni fanno sì che si crea uno stress molto grande fa salire il cortisolo che voglio ricordare il cortisolo non è un ormone cattivo nel senso è infatti il cortisolo è un ormone salvavita quindi i suoi livelli possono essere negativi nel momento in cui sono sempre troppo alti questo può portare a un catabolismo muscolare e quindi un decremento della massa magra e addirittura un incremento della massa grassa con una forte ritenzione idrica quindi il consiglio da portare a casa in questo caso è iniziare l'allenamento sempre in maniera progressiva perché per cercare di non portare ai tessuti troppo stress per non avere un richiamo d'acqua e poi anche quello di andare a monitorare perfettamente la propria composizione corporea andando a monitorare l'acqua extracellulare per ottimizzare e per andare a modulare nel miglior modo possibile l'allenamento per raggiungere prima possibile il dimagrimento o la massa muscolare in più un'altra domanda che mi viene in mente che viene fatta spessissimo è anche la frequenza cardiaca la correlazione che esiste tra frequenza cardiaca e consumo calorico molte volte infatti c'è questa correlazione più è alta la mia frequenza cardiaca più consumo calorico sto ottenendo in realtà se questa cosa è in teoria vera nella pratica un po' di meno perché la frequenza cardiaca è suscettibile da tante situazioni ad esempio quante volte ci troviamo prima di una gara ad avere una frequenza cardiaca molto alta per l'emozione ad esempio però ancora non abbiamo iniziato il lavoro meccanico quindi il consumo calorico è ancora molto basso oppure ci troviamo in palestra e ci rendiamo conto che il nostro battito cardiaco quel giorno è leggermente più alto forse perché non abbiamo dormito bene la notte precedente oppure ci troviamo davanti a un esercizio che non conosciamo perfettamente e abbiamo un battito cardiaco un po' più alto e piano piano poi che impariamo l'esercizio il nostro battito cardiaco diminuisce e diminuendo però più o meno il lavoro svolto è lo stesso e le calorie consumate sono sono le stesse altra cosa adesso è quindi correlare correlare questa la frequenza cardiaca con il battito cardiaco molte volte può essere forbiante quindi alla fine noi la famosa è giusto andare alla ricerca della famosa fascia lipolitica tra il 65 e il 70 per cento del vo2 max per andare a bruciare i famosi grassi in realtà se proprio riusciamo a farlo se riusciamo a fare a bruciare più grassi durante il nostro workout sicuramente durante il riposo andremo a consumare un po più di zuccheri e viceversa perché il corpo cerca sempre l'omeostasi quindi è giusto andare a cercare a monitorare la frequenza cardiaca ma lo dobbiamo fare per andare a monitorare il nostro lavoro più un lavoro facciamo più lo facciamo nel minor tempo possibile più avremo un miglioramento sotto il profilo metabolico e ormonale quindi il suggerimento è quello di calcolare andare a monitorare appunto la frequenza cardiaca per andare a capire se la nostra performance sta migliorando perché solo così avremo un miglioramento del quadro metabolico e così avremo un successo sul dimagrimento sulla messa di massa muscolare ecco allora ti fermo perché erano i tre le tre domande che mi vengono vengono poste più più di sovente e ho dato queste tre piccole pillole grazie alessandro mi senti sì sì ok no ti stavo dicendo ti fermo perché all'interno invito le persone finita la live di andare a rivedersi perché risponde a tre domande veramente tra quelle più interessanti no per chi vuole salire un po di livello per insomma alessandro esposito è un bravissimo professionista di altezza come dice crozza no di un certo livello e quindi ovviamente ha a che fare anche con domande un po importanti poi te le spiega in un modo molto accurato sono la loro scienze motorie ma poi sta sul pezzo da tanti anni e questa cosa è importante perché poi molte volte le persone si iscrivono in palestra e vogliono fare anche tutto subito magari vogliono bruciare le tappe ahimè non si bruciano le tappe c'è un sacco di cose che che hanno la loro logica dice sì faccio così no ma l'hit faccio prima un attimo non è detto magari per te non serve o comunque se lo fai però il warm up no ma non lo faccio perché no ma se non fai quello il vo2 quando inizi non è a quel livello è un livello basso per cui non si è efficace però non si è idratata e quindi non funziona quello però magari non è wow sono tante di quelle cose l'obiettivo quando ti affidi un professionista tipo alessandro a napoli è quello che lui prima ti fa un'anamnesi sportiva quindi vede da dove parti dove vuoi arrivare in quanto tempo e poi su di te disegna l'allenamento altrimenti la tabella non serve alessandro grazie per queste domande dove hai il centro dove le persone ti possono trovare il mio centro è a napoli quando aprirà quando sarà tutto a posto online alessandro esposito pt sia su instagram che su facebook grandioso grazie alessandro grazie alla sede di napoli linea alla regia grazie grazie a tutti